e ciao a tutti ragazzi qui Alec e oggi siamo qui per l'undicesimo episodio dello Sian l'ultimo episodio è stato disastroso abbiamo perso tutto però mi sono rifatto un po' di cose in ferro il ferro fortunatamente ce ne avevamo ancora un po' anche se abbiamo finito quasi anche quello qui c'è il nostro bellissimo faro e off camera adesso vi faccio vedere cosa ho fatto innanzitutto ho fatto un cobblestone generator con cui sto accumulando una marea di cobblestone considerate che con un piccone di ferro si fanno circa 4-5 stack l'ho messo un blocco di osina lì perché? perché in pratica io mi metto qui vicino al massimo vicino punto verso di là così posso rimanere col piccone praticamente senza mai lasciarlo perché altrimenti se c'è un blocco normale il tempo che si riforma lo spacca invece il po' che lo siano no e così posso tenere premuto e ottimizzare i tempi e farmare veramente tanto considerate che un blocco su 6 un blocco su 7 va a finire nella lava e lo perdete però è una cosa che ci può stare e niente state qua si fa più o meno in un paio di minuti uno stack da 64 di fatti io in poco più di una ventina di minuti 25 ho fatto 4-5 stack insomma si farma abbastanza bene in questo modo come vedete ho fatto 22 blocking mentre parlavo e quindi adesso rende perché altrimenti dovrei andare sempre giù a farla ma invece così ci metto molto di meno e soprattutto evito di fare un buco enorme sotto casa qua ho fatto questo spiavo ho levato un po' di terra da qua da là l'ho rimessa lì altra l'ho farmata sotto e ho fatto questo perché perché oggi andremo a fare l'equipment che avrete visto già spuntato in verde cascata con laghetto qui andrà questo è il basamento di una montagna che si dovrà erigere molto alta così da poter poi fare una cascata che scende su questo lato qui in questo lago qua questo sarà il lago ovviamente poi il lago si potrà ampliare più in là necessito di terra questa montagna sarà in parte vuota dentro perché altrimenti serve troppo materiale e in parte piena in parte piena o non tutta diciamo vuota diciamo che almeno tre o quattro strati di altezza la voglio fare piena e poi dopo un po' vuota anche per fare delle corotte magari interne eccetera però gli strati esterni volevo farli di cobblestone cotta come è giusto che sia una cazzo di montagna il problemino è che ho finito il carbone ma off camera ho fatto una marea di legno che non riesco a entrare nelle porte di legno che ho messo qua comunque abbiamo perso sì è vero tutti i diamanti però c'è rimasto la zappa che fortunatamente avevamo posato i diamanti e quindi questi sono due di diamanti che ci risparmiamo quindi ci serviranno quando sarà tre diamanti per il piccone due diamanti un diamante per la pala due tre per l'ascia e due per la spada nove diamanti dovremo andare a cercare quando sarà per fare quella achievement ma dato che abbiamo esplorato l'ultima puntata io direi che ma qui abbiamo della cobblestone cotta non andremo a esplorare in questa ma in questa andremo a costruire userò come comburente come combustibile appunto il legno lo so è uno spreco un fottuto spreco forse conviene graftarlo vero mi sa di sì che conviene graftarlo perché almeno mettiamo uno stack qua uno stack qua uno stack qua e uno stack qua in teoria dovremmo riuscire a cuocere con uno stack di legno uno stack di pietra è uno spreco lo so ma tanto la legna ce l'abbiamo infinita il carbone invece dobbiamo andarla a mainare in giro per la mineshaft e non mi sembra proprio il caso infatti off camera ho detto ok mi faccio tanto con uno stack di legno grezzo faccio riempio quattro fornace e cuocio quattro stack di pietra c'erano altri due quindi 4 8 12 stack di pietra cotta insomma dovrebbero bastare per fare la montagna quindi io adesso adesso molto semplicemente ricordo innanzitutto ragazzi di lasciare un like e un commento sull'ousiane viene commentata di meno della serie principale e questo infatti la manda meno in feed io vi consiglio il sostenere della serie di commentare anche due tre volte con un ciao con un consiglio con un bello questo è bello quello fai questo fai quello perché innanzitutto perché io leggo tutto e potrei cogliere qualche consiglio come faccio sempre e in secondo luogo perché aiutate il video a esplodere quindi l'ousiane sta comunque la serie la seconda serie più vista l'avrò già detto ma lo ripeto e quindi mi fa piacere che abbia tutto questo sostegno adesso mi metto a farmare un po di cobblestone off camera finisco questo piccone di ferro così nel frattempo si cuoce quella pietra e ne accumuliamo delle altre così poi mettiamo a cuocere quella che ho accumulato e con quella fatta andiamo un attimo a a completare la montagna a un'altra cosa ragazzi dato che appunto dovete commentare invece di fare i commenti a cazzo commentate consigliando i nuovi obiettivi per la stagione che verrà lo so che ho detto che non la farò subito dopo questa ma farò partire un'altra serie poi più in là tra qualche mese faremo la seconda stagione dell'ousiane però per quella stagione che verrà cominciate a commentare suggerendo obiettivi così che i prossimi 10 obiettivi della stagione che verrà possano essere scelti dai vostri commenti ecco eccoci qua il piccone si è rotto in questo istante abbiamo fatto due stack e me tre stack e mezzo insomma abbiamo accumulato un altro bel po' di pietra il piccone è finito sono passati 3-4 minuti come vedete è un metodo molto rapido ragazzi di farmare pietra ok si sono cuote i metalli stack va bene così ok andiamo a rimetterne a riempire aspettate che mi farmo anche questa perfetto riempiamo tutto e andiamo a riempire anche il legno ovviamente a rimpinguare le nostre fornaci perfetto adesso abbiamo due stack di pietra cotta ma ci serve anche quella cruda ragazzi questo perché abbiamo solo una torcia cazzo quella zona è poco illuminata dovremmo andare a dormire perché se no so cazzi allora perché perché ovviamente le cose non in vista le voglio fare con la pietra questa qua perché giustamente altrimenti andiamo a spendere veramente tanto non voglio usare la terra perché voglio che sia una montagna dalla base quindi allora io direi di fare un contorno di pietra gotta vediamo se riesco a farlo sia voglia riesco ragazzi tranquillamente con la pietra che va bene si sta facendo notte adesso finisco di fare il contorno e poi vado a fare la nanna allora quindi per salire conviene usare questa perché quella se no se la rompo poi ok quindi adesso io direi di alzarci almeno non so se cominciare a farla che rientra però a quel punto avremo una montagna poco alta capito è quello il problema perché poi vorrei inserire anche un po di terra in realtà però volevo prima costruirla del tutto e poi successivamente andargli a inserire magari a tratti strisce di terra cose così però è meglio farla prima tutta e poi andarla inserire dopo perché se lo devo fare nel mentre è un po un casino è la prima volta sinceramente non c'ho neanche il piccone che vado a creare una montagna grossa così come dire cioè grossa così e cercandola di fare più realistica possibile quindi non so come verrà probabilmente è una cosa che va fatta anche abbastanza in corso d'opera nel senso che vediamo come viene poi lo aggiusti la rompi il problema è che qua poi quando andiamo a rompere è pietra cotta e quindi poi tocca ricuocerla porca puttana è quello il problema andiamo a prendere un altro po di stone dai nostri rifornimenti ok perfetto per il momento non sto usando la cobblestone questa grezza perché voglio vedere quanto riempire effettivamente la montagna ha idea di fare un altro blocco un altro strato di altezza e poi cominciare a convergere verso l'interno che giustamente se no c'è bisogno veramente di troppa stone non so effettivamente cosa ci fai lì tu zombie cosa ha in mano mano una sacca di inchiostro povero squid che è morto figlio di puttana muori ci ha droppato la sacca di squid ok ok il terzo strato è fatto adesso c'è bisogno di uno strato più interno però usiamo la cobblestone per fargli l'appoggio su cui lo andremo a mettere sì ma abbiamo bisogno di un piccone perché se mi sblocco mi sblocco nuovo verbo di minecraft devo levare il blocco con le mani non mi sembra per niente il cazzo di caso comunque ragazzi ci vorrà un fottio di materiale per fare sta montagna sto episodio probabilmente verrà abbastanza noioso e soprattutto ci saranno tantissimi tagli perché sinceramente è inutile che vi sto a far vedere io che faccio tutti sti di tag vado lì metto la a fare cobblestone poi la cuocio se mi manca il legno metto a fare il legno cioè ragazzi infatti io direi che adesso vi faccio vedere un po l'inizio come sto cercando di ragionare poi faccio tutto off camera e taglio il pezzo perché altrimenti va annoiato non è che poi che non c'ha non c'ha molto senso farvi vedere tutto sto stati di terra come intendo agire ve l'ho fatto vedere poi dopo magari andiamo a fare insieme le modifiche gli aggiustamenti che sono già più carucci ma questo è abbastanza meccanico ragazzi ecco ho rifinito la cobblestone adesso devo andare a prendere quella cotta comunque ecco vedete adesso comincia a convergere e poi mano mano si alza magari è ovvio che adesso per esempio convergo faccio uno strato da 2 poi convergo magari faccio uno strato da 3 poi riconvergo capito nel senso se no se convergo viene bassa viene una montagna nana e non può da esse quindi adesso ragazzi taglio il pezzo ovviamente e ci vediamo quando sono arrivato in cima e tada allora sono due ore e trentasette minuti che sto registrando due ore e trentasette minuti non ce la faccio più mi è rimasto praticamente questo che ho in mano come come roba la montagna alla fine dentro è vuota ragazzi era troppo ci voleva troppa pietra se volevo riempirla anche solo in parte anche perché mano mano l'ho fatta scendere quindi l'ho allargata è venuta una bella montagnola insomma cioè ragazzi consigliate sto costruendo una cazzo di montagna con pietra cotta da solo cioè voglio dire non non è semplice lì c'è un sacco di tempo ragazzi che devi cuoce di fai legno di fai un sacco di cazzi allora ora adesso devo salire in cima però aspetta aspettate per fare la cascata però volevo far vedere un attimo l'interno perché se nostro episodio penso venga molto breve come episodio perché ho tagliato praticamente tutto alla lavorazione però era noiosa che vi faccio vedere però vorrei ritoccare con la terra come avevo detto che non falla tutta così la terra ne ho 42 potrei cominciare comunque a metterla la terra però sapete che c'è che certo terra così è un po brutta però ogni tanto un blocchetto capito tanto per per decorare c'è sta vedete infatti ho lasciato degli spazi proprio che mette un po di terra anche tipo così capito perché comunque c'è sta un po di terra così ogni tanto così capito sarebbe bello se ci portassi l'erba il problema è che sarebbe una ammazzata abbastanza grossa portare l'erba su tutti gli strati cioè non è fattibile sostanzialmente non intendo farlo raga perché verrebbe un lavoro troppo grosso ok ho finito la terra ho messo l'ultimo blocco qua non messa un po sparpagliata ragazzi giusto per non fa solo pietra insomma per un po una variazione adesso sto su e c'ho il primo secchio in realtà dovevo salire coi secchi vaffanculo e da dove la facciamo cascare la cascata io direi di farla uscire un po dalla montagna non proprio dalla cima ma tipo da qua no se io spacco sto blocco no tipo così e magari farla proprio dall'interno vedete se io adesso metto un blocco d'acqua qua ah non esce cazzo e perché? ah pure questo? perché non esce? cioè agli osidius? perché? se spacco quello sotto? ah no mi sape che se spacco quello sotto cascate sotto cazzo ah merda perché c'è il buco e sta andando verso l'interno cazzo no no mi è andata a leva pure le torce probabilmente ok quindi ho fatto il muro e ok casca così bisogna andare a vedere da giù uh bello l'effetto cazzo bello un bel po già solo con secchio però vorrei farla a tre sorgenti uh è già un bel effetto comunque eh è già un bel effetto è già una bella cascata comunque eh casca veramente bene sarei quasi tentato di lasciarla così però no un altro secchio voglio almeno un altro secchio allora dove lo prendiamo? lo prendiamo qua eh adesso bisogna però andare a vedere dentro ragazzi bisogna andare a vedere dentro perché è rischi eh è rischi perché mi sa che ha levato le torce ah no è vero non le avevo messe per terra le torce soprattutto non apprende anche del carbone per fare queste torce perché le avevo finite però intanto le mettevo agli strati quando stavo perché vedete mettevo lo strato salivo eccetera però non l'ho riempita l'ho riempita un po' in punta ma qua ragazzi riempirla è un lavoro un assurdo non penso lo farò mai perché cioè sinceramente secondo me non ne vale la pena non ne vale proprio la pena quindi non lo farò vediamo quando se possa lì eh niente faccio il pillar così poi lo spacco allora quindi la cascata in teoria la sorgente di qua va bene però magari era più di qua vero no? di qua già scende paro così poi se no non scende vedete come scende paro proprio al laghetto quindi non la devo fare qua al massimo posso fare un buco ehm a fianco da quest'altro lato tipo se spacco qua questo blocco e questo blocco e però vorrei far tipo così e mettere un altro blocco qua e vediamo come scende vediamo un po' ah ah forse è un pelino troppo forse è un pelino troppo eh che dite? un pelino troppo come cascata tutto quel pillarone fa schifo bisogna eliminarlo ehm e che bello vederla anche con un po' di verde l'erba ce la dovrò portare un minimo allora dobbiamo cercare di non farla scendere qua vedete quindi mh come impedirlo come impedirlo allora non deve ehm trasbordare qua quindi l'unica soluzione credo è che ci sia un blocco là giusto? no non basta non basta probabilmente ce ne deve essere anche uno sotto no non basta nemmeno questo lo fa aumentare ok aspettate sembra che è calata sì ok così già va meglio il problema è che non voglio che vada là ok quindi deve esserci una sorta di barriera così quindi mi servirà altra pietra cotta che fortunatamente ho a cuocere aggiusto un attimo la situazione e ci rivediamo appena ho finito ok ragazzi eccola qui l'ho aggiustata adesso casca bene casca sicuramente meglio di prima ed è una bella cascata stavo pensando che l'ideale su questa serie sarebbe il silk touch l'incantesimo silk touch per prendere i blocchi d'erba interi e andarli a mettere bene sulla montagna e poi volevo mettere stavo pensando la ghiaia uno stack ho visto uno stack 64 nella box potrei mettere un po' di ghiaia sparsa e evitare era anche prendere magari del carbone col silk touch per metterlo un po' sulle pareti laterali perché abbellivano veramente tanto la montagna secondo me la rendevano molto più vera ecco quindi però purtroppo a parte ho perso tantissimi livelli nell'ultimo episodio e ne ho solo 5 quindi andare a prendere silk touch è improbabile e poi comunque ricordo che non si può fare il tavolo degli incantenti perché ci mancano le pelli finiamo a mostro sponati solo i maiali di merda che in pergiunta ne è rimasto anche solo uno di maiale di merda bisognerebbe aumentare ancora di più la pianura ma il problema è che abbiamo finito anche la terra e quindi boh non lo so ragazzi è un po' un problema tutto in questa serie perché giustamente siamo in un'isola nel mare e non è semplice rimediare la roba scrivete comunque sempre nei commenti dei consigli eccetera ditemi se vi piace la cascata adesso andiamo a vedere una panoramica dall'alto del mondo prima di chiudere l'episodio che sicuramente è un episodio dei più brevi della serie però secondo me è meglio breve che lungo e vi faccio vedere io che metto blocchi a terra in pratica quindi quello è il faro e il porto questa è la farm di grano questo è l'ingresso del nether questa è la casa dietro c'è il boschetto che poi farò sempre più grosso perché dovrà diventare una foresta cobblest generito fatto anche se non era tra le missioni e questo è il nostro cascata con laghetto la montagna ovviamente andrà abbellita con erba ghiaia e tutto quant'altro la cascata sembra comunque degna di nota è una bella cascata grossa il laghetto magari successivamente verrà leggermente ampliato l'isola verrà espansa comunque penso che stiamo facendo un buon lavoro ricordate di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non avete fatto da Alec e tutto ci vediamo al prossimo episodio che lo sia un saluto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti